Si respira l'aria pulita, da qualche giorno non ci sono più rifiuti a Napoli, finalmente. Vabbè certo, oddio non ci sono più rifiuti, diciamo che Berlusconi si è impegnato un po' di più. Vabbè, l'ha provesso e l'ha fatto. Vabbè adesso scherzi a parte qui cabaret, però Berlusconi è un grande politico. Ma non ridere, Berlusconi è un grandissimo politico. È automatico, tu dici Berlusconi e io rido. Berlusconi, non ridere, è un grande politico, lui mi capisce di politica. Sai, come, 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 che dice di se stesso Berlusconi? Si definisce l'unto dal signore. Come si definisce? L'unto dal signore, virgola, cribio. Ah. Sai che vuol dire? No. Che Dio gli ha messo la mano sulla testa. E ce l'ha tirato tutti, capito? Ah, ma è possibile. Non è possibile. Ma no. Ci ha rovinato con l'euro. Ci ha rovinato con l'euro. Ma Berlusconi ci ha rovinato con l'euro. Certo. Berlusconi. Perché l'altro no. L'altro chi? Eh, perché... Ma chi è? Ma chi è? Come chi è? Chi è? Eh, perché il tesoretto è la ripresina. Ah, oggi no, le campane, bella. Chi è? Il compo di Notre Dame. No, chi sta Andreotti? Ah, è vero. Eh, chi è? Non l'hai capito? No. Eh, perché il tesoretto è la presina. Ligi, ma chi è? Ross 2 sono le cose, o è Prodi o è Lucinese Cacaca. Dai. Ma per cortesia. Scusate. Visto che era incomprensibile. Lucinese Cacaca. Sembra cinese. Lucinese. E chi ci può aiutare? Il professore Ezzo Fischetti. Allora... Un attimo, sei. Ezzo il professore. Dal serio al faceto. Nella frase te ne hai, la lettera A da sola significa devi, la lettera I da sola significa andare, quindi c'è una capacità di sintesi che è qualcosa di eccezionale. Te ne hai, quasi c'è. Te ne hai, te ne devi andare, certo che da andare a I ce ne vuole, veramente. La vocale alla fine. Esatto. Poi, addamurimamma, adda, non ha nulla a che vedere col famoso corso d'acqua, ma significa deve. Deve, adda, deve. Infine la parola detta dagli artetic è zucata, che significa succhiare ma anche poppata. Poppata. La locuzione fu più famosa e praticamente fare il doppio gioco, cioè Zucca a Ruiziz. Bene! Ezzo Fischetti, il professore. La cultura la troveremo. Li troveremo tra poco qui a Made in Sud. Ezzo Fischetti, il professore. Metronapoli, lo spettacolo è dove meno te lo aspetti. Mamma mia, vi prego. Mamma mia. Vi prego, un po' di contegno, donne. I bronzi di Riace. Oh, io adesso qui a Made in Sud non vorrei rubare il mestiere al nostro professore Enzo Fischetti. Sì. Però io sono sempre stato convinto che Napoli è un po' la capitale del Sud.